calcio basket e tennis nel sommario della pagina sportiva apriamo con il calcio dunque l'urna ha parlato e ha detto che sarà lucchese bisceglie la gala prima gara della finale play out quella che vale la salvezza e la permanenza in serie c i rossoneri di favarin giocheranno la gara di andata al porta elisa e il ritorno in puglia la prima partita in programma sabato prossimo primo giugno mentre la gara di ritorno è fissata per sabato 8 giugno dunque una settimana più tardi entrambe le gare avranno inizio alle ore 20 e 30 ricordiamo a termine di regolamento che in questo caso non ci sono vantaggi legati alle classifiche della regular season la salvezza in caso di parità a termine dei due match sarà decisa eventualmente ai tempi supplementari ed eventualmente qualora sussistesse la parità ai calci di rigore è certo che almeno a dirla così come primo commento al caldo il fatto di dover giocare ritorno a bisceglie campo piuttosto caldo ci segnalano non è un vantaggio per la lucchese ma questa lucchese aggiungiamo noi è davvero capace di tutto ancora calcio però calcio giovanile presentata ad alto pascio presentato ad alto pascio il torneo internazionale davvero un bel torneo un torneo importante accademia dello sport con illustri presenze anche dalla spagna otto gironi 24 squadre dilettantistiche e professionistiche provenienti da tutta italia due giorni di torneo in ospite internazionale davvero importante i pulcini dell'atletico madrid saranno infatti per la prima volta ad alto pascio sabato primo e domenica 2 giugno per partecipare la quinta edizione del torneo internazionale accademia dello sport città di alto pascio ecco i numeri della manifestazione organizzata dal tau calcio alto pascio che conferma ancora una volta la capacità di promuovere un evento di ampio respiro dedicato alla categoria pulcini 2009 dove protagonisti saranno lo sport e la voglia di divertirsi il torneo è stato presentato lunedì mattina dal sindaco di alto pascio sarà d'ambrosio insieme con antonello semplicioni e maurizio matteoni rispettivamente presidente e responsabile organizzativo del tau calcio si diciamo che vorremmo far sì che di fare una manifestazione importante e questa questa lo è lo vogliamo far crescere ancora di più praticamente chiamare anche altre realtà tipo ajax o altre società europee importanti sì secondo me la società comincia a essere attrezzata per organizzare una manifestazione importante sicuramente sì appunto contiamo che l'amministrazione che il comune ci dia la mano ci stia dietro per fare queste cose ma noi ci piace farle e abbiamo bisogno anche di farle passiamo al basket un altro tassello va ad incastonarsi nel mosaico del jesam le mura lucca versione 2019 2020 è anche un bel tassello come vedete il club bianco rosso ha infatti ufficializzato l'ingaggio del centro del pivot della nazionale slovacca ivana jakub kova spero di averlo pronunciato bene e alla jakub kova ha partecipato agli europei del 2017 proprio con la maglia della slovacchia alta 1 98 25 anni porterà in dote al coach delle mura francesco iurlaro oltre che una certa fisicità sotto canestro anche rapidità a dispetto dell'altezza e anche buone percentuali nel tiro da tre il tennis davanti ad un pubblico numeroso ed entusiasta per lo spettacolo offerto con un tennis di alto livello come da tempo non si vedeva a lucca si è conclusa la prima edizione del torneo open maschile organizzato dal tennis club lucca vicopelago la vittoria è andata a daniele capecchi che dopo oltre due ore di battaglia sportiva ha avuto la meglio 7 6 7 5 dunque è stata davvero una partita molto combattuta su walter trusendi su questo torneo torneremo nelle prossime edizioni del tigino in sport con un ampio servizio prima di chiudere va la pena ricordare che martedì sera alle 20 e 45 stiamo logicamente parlando di occhi su pista al palavarsacchi di viareggio gara 4 della finale tricolore tra cgc e forte dei marmi rosso blu forte marmini avanti 2 a 1 ma il viareggio ha tutta l'intenzione di voler portare la serie alla bella che eventualmente si giocherà a forte dei marmi bene tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del tg noi una breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte calificare le tg ore di vene